Io sono venuto 50 con un giorno, non ne porto più, accidenta vecchia è chi l'ha creato quel giorno. Mi sopporto più, né voi e né i miei colleghi, capito? Stavano un pochino. Era l'aprile 2018 quando le telecamere nascoste e installate dai carabinieri immortalarono queste immagini sciocca, maltrattamenti di ogni genere, offese e schiaffi, l'inferno vissuto dagli ospiti della casa di riposo degli orrori, quella di strada in Casentino. Sei o scoinvolti ripresi dalle telecamere mentre picchiavano ed insultavano gli anziani ospiti. Si tratta di cinque donne ed un uomo tutti tra i 40 e i 60 anni per il quale la procura di Arezzo aveva chiesto il rinvio a giudizio, l'accusa è quella di maltrattamenti. Questa mattina un nuovo passaggio in aula del processo. Si sono costituite parte civile l'unione dei comuni, la Comars, che era il soggetto che aveva acquisito l'appalto e poi si è costituita con me come responsabile civile, perché è chiamato da una delle parti civili, ovvero dei parenti, delle vittime, delle persone offese, la Coplar, che era l'attrice del lavoro dei singoli soggetti, quindi dei operatori sanitari. Ci sono state delle eccezioni per l'esclusione di queste due parti civili, ovvero per l'unione dei comuni e per la Comars e quindi sul punto il giudice si è riservato e scioglierà la riserva all'udienza del 16 luglio. Ci si può costituire parte civile per il danno che è diretta a conseguenza del reato. Qui si parla del reato di maltrattamenti e invece vengono fuori delle situazioni contrattuali di gestione della casa di cura, di comuni, di contratti di appalto e subappalto che scentrano poco col danno del reato per cui si parla. La prossima udienza è stata fissata per il 16 luglio, in quella data tre degli indagati potrebbero chiedere il rito abbreviato, mentre altri tre il patteggiamento. Sicuramente sono afflitte, si sentono in colpa e come più volte hanno detto si scusano per quello che è successo.